Le whales di bitcoin stanno accumulando BTC come se non ci fosse un domani. Inoltre ragazzi attenzione perché oggi, giovedì, ci saranno i CPI numbers in zona statunitense. Il che potrebbero generare un sacco di volatilità e soprattutto definire l'andamento per quanto riguarda ovviamente degli asset a risk on nel breve termine. Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Innanzitutto vi auguro un buon giovedì mattino a tutti. E come hai capito, in questo video abbiamo un sacco di news che in realtà possono generare panico all'interno dei mercati ma soprattutto voglio mostrarvi diverse mediche come per esempio il comportamento delle whales di bitcoin che stanno riniziando ad accumulare bitcoin e hanno approfittato di questo dip di mercato per riaccumulare come se non ci fossero domani. Prima però ad andare a vedere tutto nel dettaglio vi chiedo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoci al canale stesso. Hai fatto? Perfetto, basta perdersi in chiacchiere e passiamo con la visuale PC perché dobbiamo vedere veramente un sacco di cose interessanti. Allora ragazzi, come sempre partiamo con la visuale su investing.com Oggi ha maggior ragione, dato che ci saranno i core CPI CPI numbers sia year over year che month over month. Qual è la differenza per chi non lo sapesse? Praticamente stiamo parlando di un dato preso in relazione su un dato annuale cioè vuol dire su un time frame annuale e invece uno su un time frame mensile. Allora, abbiamo un core CPI che ricordo che è il componente che va a misurare l'inflazione, praticamente diciamo che è il dato che la esprime di più rispetto a tutti gli altri dati macro. Comunque sia per quanto riguarda il core CPI stiamo parlando del dato senza il settore del food e il settore energetico che sono diciamo i due dati più volatili, ok? E anche qui gli analisti si aspettano uno 0,2% con un dato precedente dello 0,2%. Praticamente si aspettano una stazionalità di questo dato, ok? Dell'inflazione. Invece per quanto riguarda la situazione annuale si aspettano una decrescita dato che abbiamo un 3,1% di aspettativa e un 3,3% di dato precedente ciò vuol dire dato dello scorso mese, ok? Anche qui però per quanto riguarda i CPI numbers per ciò che riguarda ovviamente l'andamento year over year ci aspettiamo un dato in decrescita, ok? Voglio prendere in considerazione molto rapidamente il core consumer price index che è la stessa cosa, ok? Che è appunto i CPI numbers però con il dato core, ok? Praticamente questo qua. Voglio vedere l'andamento rispetto alle sessioni scorse. Vediamo come negli ultimi due sessioni la sessione appunto del 15 maggio e quella del 12 giugno abbiamo avuto sempre dati in decrescita, ok? Addirittura nella sessione scorsa, ovvero quella di giugno, quella più recente abbiamo avuto non soltanto un dato in decrescita ma un dato più basso rispetto alle aspettative. Quindi la situazione è questa come in realtà anche diversi analisti come per esempio qui abbiamo JP Morgan che ha mappato un po' la reazione per quanto riguarda le possibili probabilità in caso di uscita per ciò che riguarda i CPI numbers, ok? E infatti ha predieto tutti gli scenari su come si potrebbe comportare il mercato, ok? Infatti è che il risultato di questa situazione che è che per l'82,5% di chance il mercato potrebbe ricorreggere, ok? Questo è quello dichiarato e riportato da JP Morgan. Passiamo molto rapidamente sul consumer price index year over year però diciamo con un dato compreso anche il settore del food e dell'energia anche qui abbiamo avuto tre sessioni in calo infatti sia a partire da quella d'aprile, maggio e giugno abbiamo avuto tre sessioni consecutive in calo, ok? Staremo a vedere anche qui la situazione come si evolve, ok? L'importante è avere un dato in calo e soprattutto nel caso più positivo averlo più basso rispetto a quello che si aspetta al mercato. Rientriamo con la situazione delle criptovalute e rientriamo nell'argomento criptovalute perché ragazzi voglio mostrarvi un grafico molto interessante infatti le Bitcoin whales e per Bitcoin whales stiamo prendendo in considerazione il long term holders praticamente stiamo parlando di tutti quei player che detengono una miriade di Bitcoin innanzitutto maggiori di se non sbaglio 10.000 Bitcoin ora qui non è espresso però comunque sia per quanto riguarda le whales si definiscono tutti quei portafogli che sicuramente detengono al di sopra di 5.000 Bitcoin comunque sia vediamo come queste entità stanno accumulando Bitcoin ad un ritmo frenetico che non vedevamo appunto da aprile del 2023, ok? Infatti le Bitcoin whales hanno accelerato una monthly grow rate cioè vuol dire una crescita mensile che si avvicina molto al 6,3% ed è un dato come detto prima che non vedevamo dal aprile scorso vediamo come abbiano approfittato di questo dump di Bitcoin che è passato da 73.000 dollari praticamente fino ad il dip minimo almeno registrato per adesso fino ai 53.000 dollari che vedete più che crolla Bitcoin e più che accelerano l'afflusso verso gli wallet cioè vuol dire l'acquisto da parte di questi player è sicuramente un dato positivo perché sicuramente se queste entità che diciamo un po' di soldini ce l'hanno e presumibilmente si aspettano di conseguenza vedendo appunto questa situazione una crescita di Bitcoin nel futuro, ok? Ovviamente non dobbiamo interfacciarci soltanto in un dato ma questo è un dato super positivo ciò vuol dire che più Bitcoin sta perdendo terreno e più abbiamo diversi player che hanno appetito da andare ad accumulare e detenere quest'ultimo appunto asset prendiamo in considerazione il governo tedesco che comunque sia voglio andare a vedere i dati precisi quando andremo ad analizzare anche i Bitcoin ETF eccetera eccetera comunque sia il governo tedesco durante la giornata di ieri ragazzi è arrivato a liquidare più di 354 milioni di dollari in Bitcoin, ok? soprattutto perché l'abbiamo visto perché sta mandando diversi Bitcoin verso gli exchange, ok? Tutto questo dump ragazzi ha portato ad avere una detenzione governativa da parte appunto del governo tedesco sotto il miliardo di dollari infatti attualmente detengono circa 13.360 Bitcoin che è soltanto il 26,8% dei Bitcoin che avevano originariamente sequestrato appunto dal caso di Movie 2K, ok? molto 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 interessante prima dumpano a mercato tutti questi Bitcoin e prima finisce questa selling pressure che stanno generando e soprattutto questo panico che stanno generando anche indirettamente voglio mostrarvi un grafico molto interessante invece che prende in considerazione degli outflow su BitMEX e ragazzi l'ultima volta che abbiamo visto un outflow così grande in realtà nella storia di Bitcoin a partire proprio dal 2019 abbiamo assistito proprio nella giornata di ieri ad un outflow di circa 35.486 Bitcoin ok? che significa? significa che è un dato che in pratica è il secondo per grandezza abbiamo avuto un dato più alto tra il 2020 e il 2021 e l'ultima volta che abbiamo visto che abbiamo assistito ad questo deflusso da parte di questi player su BitMEX poi abbiamo visto un'accelerazione incredibilmente fantasmagorica sull'asset Bitcoin ok? staremo a vedere se succederà così speriamo io me lo auguro la situazione comunque sia era molto molto similare perché nel 2020 ci trovavamo ovviamente qui post halving eravamo in prossimità dei precedenti massimi storici a cavallo tra giugno e luglio del 2019 quindi la situazione è molto molto similare staremo a vedere se sia soltanto una coincidenza o comunque sia un segno premonitore ragazzi molti mi chiedete quale carta cripto utilizzare io tendenzialmente ho due carte cripto o quella di Bybit che ne abbiamo già parlato a lungo all'interno anche di questo canale o comunque sia quella di Nexo tra l'altro Nexo oltre ad offrire le carte cripto che non è assolutamente male dato che se mettiamo sulla carta dà la possibilità di switchare da debit card a credit card e tra l'altro attraverso la carta di credit c'è la possibilità di ottenere fino al 2% di cashback su ogni acquisto comunque sia non ha soltanto questo come peculiarità infatti mette a disposizione una sezione di earning dove dà fino al 16% di interessi ovviamente rimodulabili a seconda di quanto depositate a seconda del vostro livello per quanto riguarda Nexo comunque sia potete vedere come mi potete mettere in earn sia USDT USDC BTC e le maggiori criptovalute ok infatti comunque sia è presente sul mercato da diverso tempo molti di voi già lo conosceranno e ragazzi se volete andare ad approfondirlo per chi non lo conoscesse vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione secondo me comunque sia per la sezione delle carte e la sezione earn comunque sia è uno dei progetti migliori perfetto ragazzi passiamo con l'analizzare i grafici vediamo come le ultime 24 ore sono in ricorrezione per la maggior parte appunto delle altcoin vediamo come AVAX perde un 6,8% INS un 5,8% CASPA un 2,4% ma in linea generale comunque si abbiamo per esempio Starks che guadagna un 8,7% Mantle un 2,6% comunque diciamo che la direzionalità per quanto riguarda la maggior parte delle altcoin è ribassista possiamo dire che è così anche sia per Bitcoin che di Ethereum infatti Bitcoin perde un 2,84% nelle ultime 24 ore assestando il proprio prezzo a 57.580 dollari Ethereum allo stesso modo perde leggermente meno un 1,42% rimanendo però più in negativo rispetto a Bitcoin negli ultimi 7 giorni con meno 4,72% però comunque siamo sempre leggermente sotto i 3.100 dollari precisamente 3.078 dollari nel momento in cui sto registrando per ciò che riguarda le portafoglie appunto del governo tedesco siamo a meno di un miliardo di dollari attualmente siamo a 895 milioni di detenzioni che corrispondono ad un Nodlings di circa 15.552 Bitcoin appunto detenuti e comunque sia che in quei prossimi giorni probabilmente continueranno a drenare verso il mercato appunto per andare a fare profitto comunque sia più che profitto cash out allora la giornata di ieri è stata positiva per ciò che riguarda gli strumenti che seguono l'andamento di Bitcoin che però sono quotati su le borse americane hanno avuto appunto un inflow positivo di 1800 Bitcoin ma voglio mostrarvi una cosa infatti ragazzi siamo ancora nel limbo perché? perché non soltanto siamo ancora al di sotto della media mobile a 200 periodi infatti vedete come questa gialla qui ci sta respingendo verso il ribasso purtroppo infatti abbiamo avuto quella candela di ieri che è stata una candela forte di indecisione ma in realtà ci fa vedere come la presenza dei sellers in questa zona è molto molto importante infatti ci ha rigettato dai 59.000 dollari con una chiusura a 57.700 dollari attenzione perché vogliamo mostrarvi questo livello ovvero il livello dai 58.300 dollari fino ad arrivare più o meno ai 57.500 perché abbiamo due catalizzatori molto importanti uno innanzitutto è che stiamo parlando della struttura del minimo precedente per ciò che riguarda l'ultimo minimo di questa fase di lateralità di bitcoin infatti a partire dal 28 febbraio abbiamo avuto questo flash dump che adesso viene utilizzato come zona di rimbalzo e esattamente coincide anche con la media esponenziale o mobile perché comunque sia è un dato leggermente variato però comunque sia vediamo come il livello è quello e purtroppo la price action di bitcoin fatica a superare questo livello infatti vi dicevo ragazzi è importantissimo andare a rompere verso l'ialzo confermare una chiusura verso l'ialzo magari un ritest per poi ripartire così ancora non è successo anzi siamo stati rigettati infatti sul 4 ore se andiamo a prendere in considerazione avevamo anche una specie di double bottom che però purtroppo per adesso non abbiamo confermato infatti come vedete sul 4 ore non abbiamo avuto la conferma tornando appunto sul daily ragazzi quel che voglio vedere assolutamente è andare a prendere una rottura qui sopra perché altrimenti questo potrebbe essere un ritest rigetto per poi andare a ritestare nuovamente 55 mila dollari Ethereum la situazione è molto molto similare infatti abbiamo visto come anche qui per quanto riguarda la media a 200 periodi purtroppo non l'abbiamo superata anzi la candela di ieri praticamente si è fermata in concomitanza sicuramente non ci dimostra un pattern bullish dato che vediamo questa candela che comunque è più o meno di indecisione una specie di doji con un corpo leggermente più ampio il che dimostra come una specie di equilibrio tra Bulls e Bears anche se i Bulls sono riusciti a chiudere leggermente positivo staremo a vedere anche qui se è soltanto un ritracciamento di questa zona per poi ripartire o comunque sia nello scenario peggiore è impulso ritracciamento proprio in concomitanza di queste zone per poi andare a continuare verso di basso perfetto ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione per andare a iscrivervi a Nexo o comunque sia per chi volesse lasciamo qui sotto in descrizione anche le promo per quanto riguarda Bitkit e Bybit se non l'avessi ancora fatto ti chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscriviti al canale stesso per gli iscritti invece noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao